buongiorno stiamo accendendo il camino che è il momento dove si sviluppa maggiore fumo che normalmente esce dalla bocca del camino e invade la stanza ecco io adesso ho attivato l'aspirafumo gemi sono a velocità 3 vedete come il fumo sale direttamente verso la canna fumaria senza assolutamente uscire dalla bocca del camino vi faccio vedere come ho installato il regolatore di velocità per non fare scavi nel muro ho utilizzato un filo volante che va direttamente alla presa più vicina direi che si comporta in modo egregio l'aspirazione mi pare buona finora in tutte le volte che ho acceso il camino in questa fase una certa quantità di fumo usciva verso la stanza oggi invece come vedete questa è la prima accensione che faccio con l'aspirafumo e mi pare si stia comportando in modo perfetto attraversa 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 A questo punto credo di poter dire di aver fatto un buon acquisto, perché l'aspirafumo si comporta egregiamente e fa degnamente il suo dovere. Un saluto a tutti quelli che hanno osservato questo filmato. Volevo anche farvi vedere come è installato l'aspirafumo in cima alla canna fumaria. Per ora sta girando a velocità 2. Con questo è tutto.